Il post-covid ci ha invaso, nel senso che ci sono tantissime richieste ai servizi di salute mentale di affronto di problematiche che non sono particolarmente gravi, ma la situazione, la paura, io definirei la paura che ha determinato il covid come malattia e anche tutte le incertezze di recupero da questa patologia virale hanno determinato nella popolazione, ragazzi e adulti, una situazione di grave instabilità che determina soprattutto ansia e depressione. E voi riuscite a gestire le tante richieste come numero di operatori, come spazi, come progetti, come risorse? Allora, noi siamo in difficoltà perché la richiesta è massiccia. Sappiamo che non è una richiesta che ci sarà per lungo tempo, però in questo momento siamo un pochino in difficoltà anche come figure professionali perché servono i psichiatri, servono gli psicologi, ne abbiamo, però sono sottoposti a un forse importante. Naturalmente questo va ad aumentare la popolazione dei CSM che sono circa 800-900 persone che si rivolgono al CSM nel tempo dell'anno. Noi seguiamo circa 8.000 persone nei 10 centri di salute mentale che ci sono nell'ex provincia di Udine. E a Udine di che numeri parliamo? Noi a Udine abbiamo due centri di salute mentale, Udine Nord e Udine Sud, siamo circa 1800 persone che sono seguite e poi c'è il reparto di diagnosi cura dell'ospedale. Di ieri l'allarme dell'Unicef, un bambino, un ragazzo su sette soffre di disagio mentale e si rischia di avere una ondata di pazienti adulti con problematiche mentali. È preoccupato da questa situazione? Sono preoccupato, come tutti gli specialisti, sono preoccupati di questa situazione. Cosa ci sarebbe bisogno? Diciamo che l'attenzione sia degli specialisti che anche della regione abbiamo proprio un punto specifico rispetto alla transizione dei disturbi dal minore all'adulto. Noi stiamo osservando questa situazione ed è certo che dobbiamo metterci molte più risorse di quelle che finora sono state allocate. Ci sono dei centri diurni a disposizione dei più giovani? In questo momento sono previsti, nell'Udinese non sono stati realizzati. Ci stiamo lavorando in questo tempo, ce n'è necessità assoluta.